della serie vi ricordate sotto il vestito niente c'è questa qui come si chiama vanessa incontrata dice il mio corpo lo accetto certo che quando vedo le mie foto quando avevo vent'anni mica hai ragione sembra un comodo e ragiazzone adesso ma invece di guardare ste stronzate se ti dessi fuoco no morte la città